L'avvio della stagione venatoria fa discutere anche in Ungheria, ma quest'anno i cervi e i daini dei boschi magiari potrebbero sentirsi più sicuri. Di solito molti cacciatori vengono dall'estero per cacciare propri cervi, ma la pandemia di Covid-19 ha costretto l'Ungheria a chiudere i confini. I cacciatori stranieri spendono ogni anno circa 20 milioni di euro per le battute di caccia in Ungheria. Proprio per questo rilevante indotto economico, la federazione della caccia ungherese si è battuta tenacemente per far togliere il divieto d'ingresso nel paese ai cacciatori stranieri, ma il governo Urbana ha detto no. I cacciatori ungherese avranno così campo libero. Il vice ministro per le foreste. La caccia non è come raccogliere le fragole. Dopo che le fragole sono mature non possiamo più fare nulla, ma i cervici saranno anche l'anno prossimo e si spera con una migliore situazione generale che i cacciatori ungheresi e stranieri possano nuovamente cacciarli. La perdita economica è calcolata in milioni di euro e per questo motivo esiste la tentazione di aggirare le regole. Un metodo è quello di far firmare un contratto di lavoro temporaneo ai cacciatori stranieri. In teoria in questo periodo i cacciatori stranieri non potrebbero venire a caccia nei boschi ungheresi, ma fonti anonime hanno confermato che alcuni di loro ci sono e come, sfruttando le scappatoie del sistema burocratico.